Si indaga a tutto campo per far luce sull'omicidio commesso questa mattina nelle campagne di Riesi. Ucciso a colpi di arma da fuoco il pluripregiudicato Francesco Tabì, 57 anni. È stata una telefonata anonima giunta alla centrale dei carabinieri intorno alle 9 ad avvisare che si erano uditi degli spari. Giunti sul posto in Contradamaggio, una zona impervia dell'agro Riesino, i militari hanno rinvenuto il cadavere dell'uomo, crivellato di colpi. Gioceva nei pressi di un trattore, a pochi passi da un casolare. In zona è giunto anche il magistrato di turno e sono state avviate minuziose ricerche di polizia scientifica. Il luogo del gravissimo fatto di sangue, attualmente setacciato in lungo e in largo, non sono stati trovati al momento bossoli. Si scava nel passato della vittima che aveva avuto numerosi contrasti familiari. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è legato alla sfera personale. Francesco D'Abbì era rimasto coinvolto nel blitz antimafia Odessa del 2005 con 42 arresti. Era stato condannato a 9 anni per associazione mafiosa. Lo scorso 19 marzo era stato ammanettato dai carabinieri per lesioni, danneggiamento, minaccia aggravata ed appropriazione indebita. In quell'anno erano state numerose le segnalazioni da parte dei familiari dell'uomo, peraltro vigilato speciale, che denunciavano minacce di morte. Furono i carabinieri, considerata la pericolosità del soggetto, a chiedere al magistrato di sorveglianza di Caltanissetta la misura cautelare al fine di evitare il ripetersi dei reati. D'Abbì era stato arrestato e rinchiuso nella casa circondariale di Trapani, in attesa di scontare la pena di un anno presso la casa di lavoro di Famignana. Questa mattina, nelle campagne di Riesi, ha trovato la morte.